La verità si dico che è senza peccato squagli la prima via No, mi scusi, scagli E scagli, squagli, l'ho detto in italiano E lì fedevi tutto facendo fuoco e tutte le mie cichette per scagliare questa smerza E Gesù camminava, si riguardava e diceva, vette, non si scaldano Perché siete tutti grandissimi peccatori E non si giudica la gente, giusto? E allora, qualcuno si crede, qualcuno si rende No, vittano, 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 vittano Mi scusi Alleluia Non ci sono qui, le caratteristiche Ah, è finito? No, non sono, non è ancora iniziato la festa No, 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 no Tanti tutti sono, no? Eh? Eh? Ha? Mi ha chiesto una cosa lei prima No, eh? Eh? No, no, no E tu sei che c'è? L'ho detto anche prima, sto leggendo la Bibbia Oh, oh Cos'è il primo o il secondo testamento? Ma non c'è un primo o un secondo, c'è l'antico e il nuovo testamento Ma allora che sei cugnoso? Ma te a me puoi spiegare se è l'antico, se è il nuovo Ma se te non c'eri neanche Eh, però, non c'era tanto E allora, ascolta uno che c'era E allora E io c'ero e come? Vedete di cosa ti chiede? Che la... Cioè, sei arrivato il capitolo della cena? Sì, cioè, non ce l'ho arrivato ma... Ovviamente L'ultima cena E allora Eravamo... Siamo... Una trentina di persone E allora E allora Eravamo organizzati Con questa picchetta da mangiare Ognuno portava qualcosa da mangiare C'è il piacuto Franco il neo e i brucco Ha portato il tuo Quagannacca è sentito Ma c'è il piacuto E il caso di tutto Mariolino che ci ha vinto Il tuo anno Mi ha chiesto veramente Ma io non c'è il piacuto E a gusti Il tuo anno E poi Da portava il salmese A volte non c'erano mai un mese E eravamo da un posto Che sera Vamo organizzati conti Tutti portavano cosa da mangiare E c'erano Così Il mentore Che a bocci Che doveva portare il pane Il pane Il pane Da volta un cifrascio Sono trento un cefragio così ma tanti c'è Gesù da fare è andato a accostare ha fatto moltiplicazioni ha fatto rosette ha fatto dedo e poi si arriva a guardare e abbiamo solo due bottiglie di vino e poi abbiamo due generazioni e tutto che aveva portato due pesciolini e poi ho Gesù e poi ho fatto e se ho moltiplicato i sceli applausi 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 mancata Giuda applausi e arriva tutto correndo e scusate ti ho fatto il ritardo e non c'avevo niente a casa e ti ha buttato? ti ha buttato? spinecine, se... cosi te da lì ma Marco cosa può fare? eh, c'avevo solo una coca cola zero ma hai tutto con sua chimica a buttato? ma siamo qui che ci sono venuto una piccata che domani ci sono parte no, no, scusi, scusi veramente, veramente, non dovevano crocifiggere no, dopo si sono messi a friggere prima non... c'era una roba di mangiare per non so quanta gente e va a far buffare a un certo punto ho detto oh, oh, che cosa mi dico? ero ubriaco, ok? alzo nella motoretta non faccio il tempo a mettere la terza ma saranno stati cento di uomo? No, due, erano due, ma giovani pure. Patente e libretto, abbiamo bevuto, io ho già bevuto, ero una picchiettata con amici, quattro o cinque bicchieri di vino, me li ho bevuti, sono friacco. Ah, e adesso allora soffi nel palloncino che vediamo a Sede Ubriano. Ma te non mi crezi, ti faccio vedere niente! Se mi ha dato questo palloncino, fu, ugai, devi essere ugai. Andiamo a giro. Ugai, vede, esatto, anche a me, anche a me. E per questa volta fada, ma stia attento, che egli vi dà la cosa al suo motore. RENENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENNENN con amici otto o nove bicchieri di vino sono ubriaco adesso soppi nel palloncino e vediamo se buona ecco la soppi nel palloncino, non soppi nel palloncino, non mi chiedi perché è la spada che non la so fare E questa volta vada, ma dalle prossime, dalle contra. Non faccio tempo a mettere l'attesa. E questa volta vada, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Mi chiede, mi chiede, mi chiede. E adesso soffi nel palloncino. Mi dà il palloncino e gli ha detto, questo è basta, e lei no. E' per i bambini. Adesso gli dici, fu, un leffante. Un leffante. Al salto, fu, un coccodrino. Se ne va il signor Tonini, gli ha detto, ascolti, io non la voglio più vedere, però. E allora mi fa, allora, se non ci vuole più vedere, tolga il bloccaster.